Adesso andiamo ancora a una cosa più specifica, sembra un... Le mati aree sono una di quelle cose, hanno grossi problemi, ne parliamo con Maria Domenica Cappellini, professore ordinario di medicina interna presso l'Università degli Studi di Milano. Perché hanno grossi problemi? Perché oltre ad essere molto difficili da studiare, hanno anche quella leggera sfortuna del fatto che, avendocela in pochi, hanno anche un poco peso specifico nei confronti delle aziende che fanno la ricerca, nei confronti delle pubbliche amministrazioni che devono finanziarla, nei confronti dei medici che si devono specializzare in quella cosa. E una di queste malattie rare, adesso ci dirà che cos'è, ma è una cosa che colpisce le persone anche in maniera brutta, diciamo così, è l'anemia falciforme. Perché parla di anemia falciforme? Che cos'è? Quali sono le malattie principali? Perché ci dovrebbe interessare? Se mi consente faccio anche un piccolo richiamo a quanto ho detto prima. È vero che le malattie rare sono trascurate, sono neglette, come si usa a dire. Però non dimentichiamo che ci sono milioni di persone affette da malattie rare. Questo è un dato importante. Parliamo di anemia a cellule falciforme, o sickle cell disease, l'addizione anglosassone. È un'anemia ereditaria. È una malattia del sangue, diciamo. È un'anemia, quindi è una malattia del sangue, ereditaria dovuta ad un difetto genetico della produzione di emoglobina. È noto a tutti che l'emoglobina è un elemento essenziale per il nostro organismo, è la componente principale del globulo rosso e serve al trasporto dell'ossigeno. Quindi avere un'emoglobina normale, quindi non essere anemici, avere dei globuli rossi normali e un valore di emoglobina normale garantisce un buon trasporto di ossigeno. Nel caso dell'anemia a cellule falciforme, l'emoglobina, anziché essere prodotta con delle catene globiniche normali, per questa mutazione genetica produce una variante che si chiama emoglobina S che, a differenza dell'emoglobina normale, precipita dentro il globulo rosso. Funziona male per non andare troppo nel tecrico? Funziona male, sì, nel senso che anziché legare bene l'ossigeno, precipita dentro il globulo rosso e si trasforma. E che succede a chi ce l'ha? Diciamo che ci sono due condizioni, quella del portatore sano, quindi soggetto che ha un solo difetto dell'emoglobina e è portatore e riesce a compensare, è malato e il soggetto è malato che riceve due difetti, uno dal papà e uno dalla mamma. Cosa succede? I globuli rossi, anziché essere rotondi, elastici, che girano velocemente, diventano delle falci. Non a caso si chiama anemia falce. Prendono l'aspetto di una falce. Una falce in circolo, soprattutto nel sistema microcircolatorio, non fa male, crea intoppo. Non fa male, la cellula non fa male, intoppa il circolo. Allora, intoppando il circolo, crea delle vaso-occlusioni e lì non si distribuisce l'ossigeno. Allora, dolore importante in alcuni distretti, quindi articolazioni. Dolore fortissimo. Dolore che alcuni autori hanno definito veramente come ingestibile, tant'è che bisogna ricorrere molto spesso addirittura alla morfina. Dottoressa Cappellini, la interrompo perché quello che ci sta raccontando è veramente molto interessante. Però io prima le voglio manifestare tutta la mia soddisfazione di avere lei qui in trasmissione, perché è una donna, una professionista eccezionale. Abbiamo avuto prima la dottoressa Castiglione e queste sono dimostrazioni come, caro Fabio, senza le donne non c'è progresso, non c'è salute, non c'è futuro. Dottoressa Cappellini, io purtroppo conosco questa malattia perché ho visto dei bambini che soffrivano di questa malattia, ho visti sofferenti bambini e naturalmente familiari e mamme. Che prospettiva c'è oggi? Ci dia qualche prospettiva buona, qualche novità positiva, qualche speranza? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Si sta aprendo uno scenario assolutamente nuovo, che mi auguro tangibile nei prossimi mesi o anni, perché purtroppo questa è una patologia molto complessa, ovviamente non abbiamo tempo di discuterlo, ma le manifestazioni sono varie, quindi le modalità di intervento finora disponibili erano o trasfondere o fare lo scambio del sangue o usare qualche terapia antipropriodolorifica. Oppure anche il trapianto, no? Oppure il trapianto di midollo che è stato introdotto negli ultimi dieci anni con alcuni pro e contro. Il futuro è molto promettente. Terapia genica, quindi introdurre nelle cellule staminali di questi pazienti il gene corretto, che quindi fa produrre emoglobina normale. Oppure anche, sono già in trial clinici e alcuni già in fase di registrazione, farmaci, quindi molecole, che andranno proprio a correggere questo errore che fa produrre le falci e quindi dovrebbe ridurre il rischio di vaso occlusione. Prima di andare avanti, Barbara, su questo però un commento lo faccio a te perché giustamente è una professoressa. Noi ci stiamo preoccupando noi, in effetti, alcuni si stanno preoccupando del vaccino quando la nostra tecnologia medica sta cercando di andare a correggere, non per farci dominare da una razza aliena, ma per sistemare una questione di dolore enorme, sta correggendo i nostri geni, quindi il DNA, possiamo dire, no? Certo, stiamo parlando anche di vaccini. Stiamo parlando del fatto che siamo oltre l'immaginabile e quelli che si preoccupano per delle robe assurde dovrebbero rendersi conto che c'è gente che studia questa roba per evitare che dei bambini soffrano come peggio che delle bestie, diciamo così. Io ho visto che... Sono un po' burro in questa cosa, ma... Ci sono anche dei vaccini adesso per altre malattie reali. Stavo leggendo che ho visto che si potrà arrivare al vaccino addirittura per la sclerosi multipla, vaccino per alcune forme tumorali. Sono prospettive, secondo lei, a breve? Cosa prevedi dalla sua esperienza? Le tecnologie oggi disponibili consentono veramente di correggere difetti che sono alla base di alcune malattie. Come lei dice, per esempio, la sclerosi multipla, numerose patologie su base neurodegenerative. Ci sono appunto delle procedure correttive. Basti pensare a tutto quello che è stato fatto in ambito oncoematologico. Avrete parlato o avrete sentito parlare di CAR-T. Cioè, questo nuovo approccio terapeutico... Questo è un tema, eh, su CAR-T, nel senso che sono molto costosi. Allora, questo è un tema che vale per tutto. Ma no, però vale anche per l'anemia falciforme. Cioè, cosa vuol dire? Bisogna mettere sempre avanti la persona, no? Sì, allora, se noi parliamo di terapia genica, io vi posso dire che oggi, allo stato attuale, l'EMA ha registrato la terapia genica, sia per la talassemia che per l'anemia falciforme, ad un costo di 1.800.000 euro per paziente. Cosa che fa strabuzzare gli occhi, ovviamente. Un bambino vale 1.800.000 euro? Sì, appunto, ma soprattutto se poi trasferiamo questa terapia in one shot. Cioè, io la faccio e guarisco. Però la cosa che i telespettatori vengono a spiegare è questa terapia costa 1.800.000 euro. Tuo figlio, che ha l'anemia falciforme, che soffre in una maniera indicibile, vale 1.800.000 euro? Se lo dicessero ai miei figli, e io ne ho due, direi assolutamente sì. Ma certamente penso che tutti risponderebbero sì. Eh, però bisogna dirglielo così per far capire che... Penso di sì, e dovrebbe rispondere sì anche l'istituzione, perché se fai il calcolo di quanto può costare, al di là della qualità di vita che sta innanzitutto, ma quanto può costare la terapia di un paziente con un'anemia a cellule falciforme per 40 anni... Ma poi, torniamo un attimo sulla malattia. Come tutte le malattie croniche, sono costosissime per la nostra società. Queste persone hanno danni poi anche... Cioè, che gli succede? No, il discorso è che, a parte quella sintomatologia che si lega all'evento acuto vaso-occlusivo, però il ripetersi di fenomeni vaso-occlusivi o il verificarsi di fenomeni vaso-occlusivi a livello dei polmoni, per esempio, o a livello del fegano, portano a insufficienza d'organo. Quindi talvolta... Questi pazienti, purtroppo, arrivano anche a morte terza, quarta, quinta decada di vita per insufficienza epatica o insufficienza respiratoria. L'evento più critico e più temibile è quando il paziente arriva in pronto soccorso con proprio l'insufficienza respiratoria perché nel microcircolo polmonare c'è questa vaso-occlusiva e occlusione. Se non si è tempestivi, si perde il paziente. Perché è come un sistema di tubi che si va a intoppare e quindi, di vista che non c'è il mister muscolo per sbloccarlo... Comunque, caro Fabio Massa, cari telespettatori, quando noi parliamo della sanità, anche della sanità lombarda, dobbiamo ricordarci sempre che ci sono dei centri di eccellenza. Io prima ho buttato lì questa cosa che ho visto dei bambini con l'anemia. Io personalmente ho avuto un'esperienza mia, privata, non parlo mai di queste cose, ma il mio figlio, quando era piccolo, purtroppo ha avuto una malattia molto importante. Adesso è un uomo, è grande. Bello e sano. Bello e sano. Sono passati tanti anni, ma era una malattia importante. E non smetterò mai di ringraziare il San Gerardo di Monza, che lo ha curato. E posso assicurare che vedere tante persone da tutto il mondo che arrivavano al San Gerardo di Monza e venivano curate gratuitamente e questi bambini venivano salvati, è stata una cosa incredibile. Quindi io ringrazio, dottoressa, i medici d'Italia, della nostra regione, i medici come lei, che tutta la vita la dedicano a curare i malati. Io direi che non c'è altro da aggiungere, anche perché poi conosco Barbara e su queste cose, giustamente, diventa molto emotiva e la ringrazio anche di aver raccontato questa cosa in onda che io la conoscevo, però gli altri no. Grazie mille, grazie a voi, Grazie moltissimo. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti,